grazie Giorgia e benvenuta a Taranto questa è la Taranto che ti saluta e la Taranto alla ricerca di un grande riscatto grazie a tutti grazie Taranto grazie ai coordinatori cittadini grazie a tutti gli amici che si sono impegnati per realizzare questa bellissima piazza a mezzogiorno con trettotto gradi grazie grazie a tutti grazie all'onorevole Marcello Gemmato nostro coordinatore regionale per la sua presenza costante nel nostro territorio grazie a Raffaele Fitto nostro candidato alla guida della regione Puglia un grazie ai parlamentari onorevoli Luca Selli e Cagliata presenti qui con noi li salutiamo grazie grazie alla polizia e a tutte le forze dell'ordine perché sono sempre accanto a noi grazie un abbraccio a tutti voi grazie a Fabio Roscani segretario nazionale di gioventù nazionale grazie per la tua presenza Fabio grazie grazie a tutti questa è la piazza che noi vogliamo Giorgia una piazza costruttiva una piazza che non urla una piazza che vuole costruire ed è piena di idee di entusiasmo grazie a tutti se volete ci accomodiamo e cominciamo la manifestazione grazie ringrazio i coordinatori cittadini di Taranto Vitanza e Pastore per il grande impegno che hanno messo insieme agli altri per l'organizzazione di questa manifestazione passerei la parola per iniziare al segretario nazionale di gioventù nazionale Fabio Roscani prego Fabio allora eccoci buongiorno a tutti e grazie per aver riempito questa piazza straordinaria grazie alle undici e mezza di mattina a mezzogiorno in una giornata così calda dove ancora qui in questa terra meravigliosa si va al mare ma questa buona battaglia la stiamo combattendo tutti insieme sono sicuro che dal ventidue di settembre questa regione si potrà liberare della peggiore sinistra che avete visto in questo territorio che ha umiliato questa terra straordinaria io voglio ringraziare tutti i dirigenti di Fratelli d'Italia militanti i ragazzi di gioventù nazionale che sono lì dietro la piazza che spesso sono dietro le quinte ma che sono il motore il cuore l'orgoglio e la passione di questo partito della nostra generazione lo dico in una regione alla quale le giovani generazioni vivono tanti problemi una disoccupazione giovanile altissima dei dati sull'emigrazione giovanile che diventano veramente raccontano dati di una vera e propria emergenza nazionale ma noi siamo qui per raccontare che c'è la possibilità di avere un cambiamento perché questa terra non è destinata per forza ad avere questi dati non è destinata per forza a vedere scappare i propri giovani noi con Raffaele Fitto vogliamo costruire una regione capace di avere uno sviluppo economico di avere la possibilità di trovare lavoro in questa terra di costruirsi una famiglia di comprarsi una casa di vedere i propri giovani rimanere a Taranto nella regione Puglia e anche di richiamare a casa gli oltre 100.000 ragazzi under 30 che negli ultimi dieci anni hanno lasciato questa terra e quindi questa battaglia la facciamo per amore delle nostre città per amore di questa regione per mandare a casa una sinistra che ha fatto davvero tanto tanto male la facciamo perché da domani con Raffaele Fitto e con Fratelli d'Italia ci sarà sicuramente una speranza per questa straordinaria terra una generazione la mia che viene raccontata come distante dalla politica come lontana da avere diciamo a cuore la cosa pubblica ma è vero anche che la mia generazione molto spesso viene raccontata come quella delle piazze delle sardine come quella che è pronta di imbrattare le statue della nostra cultura del nostro orgoglio come quella che è pronta a scendere in piazza soltanto per tenere la droga libera beh sappiate che dall'altra parte della barricata ci sono i ragazzi di gioventù nazionale che invece sono in campo ogni giorno per costruire il bene della propria terra del proprio popolo della propria nazione perché se c'è una cosa che porta avanti e che ci fa tenere quella bandiera alta è l'amore per la nostra nazione l'amore del nostro popolo quel grande orgoglio di essere italiani per le nostre tradizioni per la nostra cultura che nessuno ci potrà mai togliere e allora combattiamo questa battaglia insieme ancora qualche altro giorno sono i giorni decisivi per poter fare la differenza la differenza fra continuare ad andare avanti con un'amministrazione di centro-sinistra che governa questa regione da 15 anni che tanto ha umiliato questa terra o la possibilità di avere davvero il cambiamento di avere davvero la speranza che da qui ai prossimi cinque anni questa regione torni ad essere il motore del sud Italia perché noi abbiamo sempre detto che per noi la questione meridionale non è una questione che riguarda soltanto il sud ma è una questione che riguarda tutta l'Italia che può diventare tornare ad essere competitiva in Europa e nel mondo se il sud tornerà ad essere il motore trainante di questa terra continuiamo questa battaglia contattiamo tutti i nostri amici contattiamo tutte le persone che possono davvero fare la differenza in questa battaglia e vedrete che dal giorno dopo questa terra avrà una speranza noi vogliamo rappresentare quindi un cambiamento vero vogliamo essere orgogliosi di farlo come l'Americo Vespucci che solca i mari del canale navigabile che vede il ponte girevole tutta la gente di questa meravigliosa città inchinarsi di fronte a così tanta bellezza noi vedremo nuovamente questa terra risorgere ed avere davvero una speranza per il futuro grazie a tutti grazie a Giorgia Meloni grazie a questa splendida città grazie a Raffaele Vitto grazie a Fratelli d'Italia gioventù nazionale fino alla vittoria abbiamo un regalo per voi ci sono le maglie dei ragazzi di gioventù nazionale eccole qua grazie Fabio grazie per tutto quello che fate e rappresentate i giovani la presenza la voglia di crescere e di rinnovare il nostro territorio e la nostra nazione ringrazio i nostri alfieri sono qui in prima fila i candidati di Fratelli d'Italia i sette candidati di Fratelli d'Italia in provincia di Taranto stanno dando il massimo stanno correndo come pazzi io li ringrazio a nome del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia saluto il coordinatore regionale Andrea Piepoli di gioventù nazionale mi era sfuggito prima e consentitemi un saluto all'onorevole Nini del Prete storia della destra salentina un applauso Nini grazie per essere qui con noi grazie Passo la parola a Marcello Gemmato coordinatore regionale per la Puglia di Fratelli d'Italia prego Marcello perfetto giustamente ossequiamo a tutte le direttive anticovid che ci vengono sottoposte perché noi siamo la destra e stiamo il partito delle regole e le decliniamo fino in fondo un ringraziamento particolare da coordinatore regionale al nostro leader nazionale Giorgia Meloni al quale diamo il nostro benvenuto qui in terra ionica a Taranto in Puglia dove non ha mai fatto mancare la propria presenza la ringrazio pubblicamente per aver caparbiamente chiesto la Puglia come regione per Fratelli d'Italia e per averla chiesta per Raffaele Fitto persona per bene persona che ha già dimostrato di saper bene amministrare la nostra regione Puglia e con il quale noi immaginiamo di dare un segno di discontinuità dopo 15 anni di governo di centro-sinistra a guida PD noi vogliamo che Raffaele che Fratelli d'Italia che questa splendida classe dirigente torni a governare la nostra regione anche nel ricordo di Pinuccio Tatarella che tanto ha fatto per la nostra Puglia e che oggi immagino voglia da noi questo regalo e noi questo regalo lo daremo ma non lo daremo soltanto per una notazione di carattere personale politica sarebbe politico sarebbe poco sarebbe riduttivo in questi 15 anni la Puglia che è una regione caparbia fatta di lavoratori di gente per bene è andata avanti indubbiamente ma ha perso tante occasioni lo dico in una terra anche a vocazione agricola noi Raffaele abbiamo perso un miliardo 636 milioni di euro del PSR che in larga parte torneranno indietro in Europa perché una classe dirigente amministrativa costituita da incapaci non è stato in grado di spenderla allora anche per questo noi dobbiamo vincere nella nostra regione come scientemente negli ultimi 15 anni noi abbiamo assistito alla desertificazione della dell'assistenza sanitaria pubblica in Puglia segnatamente nel Tarantino abbiamo chiuso e hanno chiuso punti di primo soccorso pronto soccorsi ospedali oggi l'assistenza pubblica è desertificata sul territorio gli ultimi dati ci raccontano di 200 milioni di euro che la regione spende come mobilità passiva perché i pugliesi sono costretti all'ignominia del turismo sanitario verso le regioni del nord perché qui non si riesce più a curarsi allora Raffaele se come immagino tu diventerai il nostro nuovo presidente della regione Puglia dovrai partire da qui dall'agricoltura dai giovani dalla sanità che tanto aspettano il tuo apporto e tanto aspettano le tue capacità ora io immagino e mi avvio alle conclusioni perché è evidente che siamo qui per ascoltare le parole di Raffaele di Giorgia però immagino che se siete e se siamo qui così tanti e numerosi nonostante immagino per me sono 40 gradi percepiti nonostante siano le 12 di mattina noi ci crediamo tutti le persone che stiamo qui ci crediamo allora visto che parlo a gente che ci crede e ci mette il cuore vi chiedo tre cose uno di votare per Raffaele Fitto come presidente della regione Puglia due di votare per fratelli d'italia il partito di Giorgia Meloni il partito che mi onoro di rappresentare a livello regionale e per fare in modo che i fratelli d'italia Puglia diventi il primo fratelli d'italia d'italia e che i fratelli d'italia diventi il primo partito del centrodestra e perché no della Puglia tutto e per questo votando questi splendidi candidati noi cambieremo il segno della nostra regione forza 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 ce la faremo grazie grazie Marcello grazie per l'entusiasmo e la tua passione passo la parola a Raffaele Fitto che è il protagonista di questa campagna elettorale con un tour straordinario grazie Raffaele questa è la piazza di Taranto grazie grazie a tutti grazie grazie per questo entusiasmo per questa splendida partecipazione grazie a Giorgia e io anche qui a Taranto come ho fatto nelle altre province voglio partire da qui se noi abbiamo una coalizione compatta se abbiamo questa grande chance se possiamo giocare questa partita a feri in fondo lo dobbiamo sicuramente a tutti ma io penso che sia doveroso riconoscerlo alla decisione alla convinzione alla determinazione con la quale Giorgia ha condotto questa trattativa e questo impegno io la voglio ringraziare qui anche a Taranto e voglio ringraziare i sette candidati di Fratelli d'Italia con i quali stiamo conducendo questa battaglia elettorale insieme a tutti gli altri candidati voglio ringraziare i coordinatori voglio ringraziare Marcello voglio ringraziare i giovani di gioventù nazionale che stanno lavorando con intensità voglio ringraziare Fabio Andrea voglio rivolgere a tutti quanti voi un sentimento di ringraziamento perché per chi come me è chiamato a rappresentare la sintesi di questo sforzo sento tutto l'onere e l'onore di questo impegno ieri sera a Bari abbiamo avuto una dimostrazione concreta di quella che è la progettualità la credibilità del centrodestra in questa regione e in questo paese Matteo Salvini Giorgia Meloni Antonio Tagliani e Lorenzo Cesa tutti insieme su un palco per rendere plastico e visibile l'unità della nostra coalizione ma anche per spiegare quanto sia necessario cambiare pagina in questa regione io non voglio ripetere le lunghe inadempienze i disastri settore per settore che sono stati realizzati in questi anni in queste ore c'è chi Emiliano prova a polemizzare con me sul passato ma io faccio una domanda sono 15 anni che governano ma diteci cosa avete fatto in questi 15 anni parlateci di voi non parlate degli altri parlateci della sanità parlateci delle liste d'attesa della mobilità passiva dei grandi soldi che spendiamo fuori regione parlateci di quello che state combinando nella gestione della sanità dove in queste ore stanno distribuendo prebende, incarichi e promettendo assunzioni piegando le istituzioni all'interesse elettorale parlateci di agricoltura nella regione più agricola d'Italia in una regione dove ci sono delle eccellenze in termini di produzione dove incredibilmente ci sono ingenti risorse dell'Unione Europea che non sappiamo spendere che in questi anni non sono state spese la Puglia, non lo dice il centrodestra, lo dicono i dati, è l'ultima regione d'Italia in termini di spesa sull'uso delle risorse europee in campo agricolo, nella pesca, lo è anche sulle infrastrutture, se io vi chiedessi di indicare una sola infrastruttura realizzata in questi 15 anni alla sinistra nessuno mi saprebbe dare una risposta perché non c'è una risposta e così nei rifiuti, così in tutti i settori produttivi di questa regione, hanno fatto altro e noi dobbiamo spiegare cosa hanno fatto e dobbiamo anche spiegare la direzione di marce che vogliamo portare avanti, hanno aumentato la pressione fiscale in questa regione, dobbiamo ricordarlo perché c'è quasi un'abitudine, perché in Puglia noi abbiamo i cittadini più tassati d'Italia, perché ognuno di noi paga l'IRPEF con l'addizionale regionale, perché le imprese pugliesi pagano l'IRAP con l'addizionale regionale, il metano, la benzina, i rifiuti, tutti addizionali regionali, ogni anno la regione Puglia, il governo della Puglia preleva dalle tasche dei cittadini pugliesi oltre 300 milioni di euro e tutto questo lo fa dal 2007 e lo fa per alimentare un sistema di potere che ha portato alla costruzione di agenzie, società dove distribuire clientela, posti, amici, degli amici senza avere una sola strategia. Noi non ci candidiamo per cambiare le cose in modo semplice, noi questa giostra, cara Giorgia, la vogliamo rompere, noi ci candidiamo per ribaltare tutto, ci candidiamo per trasformare la regione da un ente che distribuisce il posto di lavoro all'amico dell'amico in un ente che si è in grado di creare occupazione, sviluppo e benessere guardando alle grandi questioni di questo territorio, parlando anche dei nodi che ci sono, come qui a Taranto l'Ilva, non se ne parla, il governo è scomparso, aumentano gli operai che vanno in cassa integrazione, le imprese dell'indotto stanno morendo per asfissia, il governo non esiste, non si è posta la questione del mettere insieme una riconversione seria che potesse tutelare l'ambiente rispetto alla necessità di garantire un'occupazione, non hanno fatto nulla, non hanno fatto nulla sulle questioni fondamentali e questa è una delle province, delle città più bistrattate e dimenticate in questi 15 anni da parte della sinistra al governo di questa regione. Io cari amici voglio solamente manifestare, dirvi, trasmettervi, non solamente l'entusiasmo che sto cogliendo girando la regione palmo palmo, comune comune, quartiere per quartiere, incontrando tantissimi elettori, tantissimi amici. Io quando vedo negli occhi le persone tramite anche la mascherina, la mascherina copre il volto ma non copre gli occhi, gli occhi non ingannano il pensiero, noi abbiamo anche una parte di elettorato che è molto sfiduciato, io vi chiedo di lavorare in questa settimana finale per spiegare quanto sia importante partecipare, quanto sia importante andare a votare, quanto sia necessario cambiare profondamente il futuro di questa regione. Abbiamo un programma serio, credibile, che ha un punto di riferimento, una bussola, che sono i nostri giovani, abbiamo la necessità di lavorare per creare condizioni che sviluppino al meglio i settori produttivi di questa regione, dobbiamo invertire questa tendenza, tornare ad essere coloro i quali sanno spendere risorse europee, le concentrino, realizzino le infrastrutture, costruiscono una regione che abbia un futuro, una prospettiva, una regione che sia presente in Europa come a Roma per battere i pugni quando è necessario, non strumentalmente ma per portare a casa i risultati, per essere nelle condizioni di cogliere le opportunità, per mettere in campo in poche parole via gli slogan, mettere in campo un po' di competenza e di serietà per governare i problemi complessi che abbiamo di fronte. Basta con le chiacchiere, basta con la demagogia e basta con la gestione clienterale del potere, mettiamo in campo un grande progetto per questa regione e facciamolo tutti insieme, con l'entusiasmo che anche questa mattina state dimostrando e testimoniando. Io non faccio promesse, abbiamo un programma serio e credibile, non faccio promesse perché sono 15 anni che le abbiamo ascoltate queste promesse che sono rimaste tutte dimenticate. noi dobbiamo solamente promettere serietà e dobbiamo promettere anche che nei prossimi cinque anni lavoreremo per il futuro di questa regione. Io chiedo a voi di dedicarmi con entusiasmo e con convinzione i prossimi sette giorni, la prossima settimana, dedicateci questa settimana e io vi prometto che insieme cambieremo il futuro di questa regione, insieme con la testa, con la competenza, ma anche con il cuore e con la passione che caratterizza il nostro impegno. Andiamo avanti, dobbiamo muoverci e dobbiamo raggiungere insieme questo grande risultato per la Puglia e per i pugliesi. Grazie. Grazie Raffaele, grazie per la passione, grazie per tutto quello che stai facendo per la Puglia e che farai nei prossimi cinque anni per la Puglia e per i pugliesi. Ora il momento clou della giornata, passo la parola al presidente nazionale di Fratelli Italia, Giorgio Meloni. Grazie Giorgio, grazie da Taranto. Buongiorno a tutti, grazie di essere qui, grazie per questo entusiasmo, grazie per questa presenza appassionata in una campagna elettorale nella quale stiamo correndo tanto, con un sole anche, è una temperatura che non aiutano. Poi da queste parti è così, il sole c'è ed è bello, però stiamo arrivando su tutto il territorio della regione, ovunque andiamo riscontriamo un grande entusiasmo, una grande voglia di ripartire, di ricominciare, di crederci, di avere un'idea di sviluppo per questo territorio, un'idea di una classe politica che sappia finalmente essere all'altezza della sua gente. Perché signori, la Puglia, Taranto, la sua provincia, meritano molto molto di più di quello che hanno visto in questi anni. Meritano una classe politica che abbia un'idea di sviluppo, un'idea di sviluppo economico, un'idea di sviluppo industriale, un'idea di sviluppo infrastrutturale, un'idea chiara di quali debbano essere le priorità per questo territorio. E Fratelli d'Italia ha esattamente quella idea, perché la particolarità, che non dovrebbe essere una particolarità in politica ma ormai lo è diventato, è che pensate un po', noi facciamo politica perché abbiamo delle idee, non perché dobbiamo per forza posizionare le nostre reali terga su una poltrona dalla quale non scollarci mai più come fanno i nostri avversari. Noi facciamo politica perché abbiamo delle idee, una visione da realizzare. Allora vedete quella di chiedere alla coalizione di centrodestra di poter guidare questa sfida con Fratelli d'Italia, con Raffaele il conflitto per la presidenza, per il governo della regione Puglia, è una scelta che noi abbiamo fatto dopo averci pensato molto e con convinzione, perché io penso davvero che questa sia una regione nella quale si può fare molto. Qual è la nostra idea? Fratelli d'Italia governa già la regione Abruzzo. In questa campagna elettorale oltre affitto noi esprimiamo un altro candidato alla presidenza della regione nella persona di Francesco Acquaroli nelle Marche. Vedete noi in Italia abbiamo sì un problema di divario tra il nord e il sud e il sud. Ma abbiamo anche un problema di divario tra il versante tirrenico e il versante adriatico. Quello che Fratelli d'Italia sta cercando di costruire è una filiera di sviluppo del suo versante adriatico in termini infrastrutturali, in termini di capacità competitiva, in termini di sviluppo industriale ed economico perché si può fare anche questo. È certo che è meno divertente di venirvi a parlare nei comizi del reddito di cittadinanza, è certo che è più facile prendere i voti dicendo do a tutti i 780 euro, ma chi viene in queste piazze e vi propone i 780 euro se state a casa senza lavorare? Sta mentendo e ha un'idea di questo territorio per cui i cittadini vanno mantenuti con la paghetta di Stato perché così dipendono dalla politica e devono fare quello che il partito dice quando si va a votare. Ed è esattamente quello che è stato fatto in questi anni, invece no, io voglio essere noiosa e vi dico che questa nazione e questi territori potendo competere ad armi pari, davvero non avrebbero da chiedere niente a nessuno. Provate a sviluppare questa terra in modo adeguato sul piano industriale, ma vi pare normale che una nazione come la nostra, che è una piattaforma in mezzo al Mediterraneo, non sia riuscita in questi anni ad avere uno sviluppo adeguato dei suoi porti e delle sue infrastrutture interne e lo dico a Taranto. L'Italia perde 70 miliardi di euro l'anno per l'assenza di infrastrutture commerciali, le merci che arrivano da Est preferiscono fare il giro d'Europa ed arrivare ad Amsterdam o a Rotterdam perché se vengono qui non ce la fanno con gli stessi tempi, circunnavigano l'Europa e fanno prima, ma è normale, è normale. Allora vedete io voglio parlare di questo perché non sono una persona che viene qui in mente, sono una persona che vi dice, noi siamo persone che vi dicono che magari diremo anche di no quando una cosa non si può fare, ma se ci prendiamo un impegno è perché abbiamo una convinzione di quello che si può fare su questo territorio e questa roba qui si può fare. E Fratelli d'Italia è quel partito, l'unico partito in Italia che sostiene il tema per esempio del riequilibrio infrastrutturale tra nord e sud, delle risorse, perché come voi sapete la spesa per infrastrutture è legata alla popolazione, quindi al sud arriva il 36% di risorse destinate alle infrastrutture e il rimanente va nel centro nord, perché? Perché appunto si stabilì tempo fa che doveva essere legato alla popolazione, ma secondo noi è un parametro sbagliato ormai, vecchio, perché vedete questi territori hanno un problema di spopolamento. Il 36% della popolazione vive qui perché da questi territori ci sono migliaia di persone che sono costrette a scappare. Se noi continuiamo a legare la spesa infrastrutturale alle persone non ne usciamo mai, perché lo spopolamento è figlio anche dell'assenza di opportunità che dipende dalla mancanza di infrastrutture. Quindi anche qui è noioso, però la sfida di portare il 50% di spesa infrastrutturale al sud per colmare il divario è una sfida che Fratelli d'Italia ha raccolto anni fa. Ecco io penso che tutto questo si possa fare e che penso che si possa fare se si ha un'idea chiara, se si ha un po' di pazienza, se si ha anche un po' di capacità di dire la verità e se si pensa che la politica debba essere una missione a disposizione dei propri cittadini e non uno strumento per arricchire se stessi o per mantenersi saldi a un potere che non si sa esercitare. E penso che anche la scelta fatta da Raffaele Fitto sia una scelta rispetto alla quale voi dovete considerare un vantaggio importante, intanto perché è una scelta d'amore. Vedete voi avete avuto per cinque anni un presidente della regione che ha usato questo territorio sperando che potesse essere un trampolino di lancio verso la politica nazionale, poi non ha avuto sbocchi e è rimasto qui e si è ricandidato. Da una parte Emiliano che usava la Puglia per andare a Roma, dall'altra parte Raffaele Fitto che ha un incarico prestigiosissimo a livello internazionale ed europeo perché è co-presidente della famiglia dei conservatori europei, che è una delle principali famiglie dei conservatori europei, che decide di tornare nella sua terra per amore di questo territorio. E oltre all'amore non va sottovalutato il valore che questo può avere. Perché vedete in anni al Parlamento europeo e con un ruolo importante all'interno delle istituzioni europee Raffaele ha costruito anche tanti rapporti, tante relazioni, tanti contatti, in materie strategiche per un territorio come questo. Perché pensate solo al campo dell'agricoltura, questa è la principale regione agricola italiana e è una delle regioni nella quale vengono spesi meno i fondi europei destinati all'agricoltura, che è un delitto, che è un delitto, miliardi di euro che vengono ribandati indietro mentre le aziende del comparto agricolo chiudono, un delitto, esattamente come sul tema della xylella. C'era qualcuno che andò in Europa a cercare di affrontare seriamente la questione, del resto c'era un modo per affrontare questo tema col piano di eradicazioni del generale Silletti, ma Emiliano ha preferito rincorrere il mago telma del Movimento 5 Stelle e ci ritroviamo con 21 milioni di piante che intanto sono state ammazzate e poi ci dicono pure che non è vero. Però dico pensate all'agricoltura, nell'agricoltura, vedete nella famiglia dei conservatori europei i due partiti che gestiscono la copresidenza sono Fratelli d'Italia con Raffaele Fitto e i polacchi di Kaczynski. I polacchi di Kaczynski esprimono anche il commissario europeo all'agricoltura e allora magari un'attenzione particolare su questo territorio per gli interessi delle nostre aziende, delle nostre produzioni lo possiamo fare perché signori parliamoci chiaro, il marchio in Italia, altro grande tema, è tutto quello che abbiamo. Noi non ci rendiamo conto del valore che ha il Made in Italy, terzo marchio per riconoscibilità al mondo, primo marchio nazionale, noi siamo troppo abituati a vederlo e non ci facciamo caso alle cose straordinarie che abbiamo, ma fuori dai nostri confini nazionali, nei quali noi non ci amiamo così tanto, fuori dai nostri confini nazionali noi siamo incredibilmente amati e rispettati per quello che rappresentiamo e produciamo. La difesa delle nostre produzioni è un tema fondamentale, ma guardate anche su una vicenda come l'Ilva perché vedete una cosa che io non ho mai capito è perché nella trattativa con Arcelor Mittal che è un gigante economico da 80 miliardi e quindi diciamo no, non è che abbia proprio, tende a guardarti un po' dall'alto in basso. Perché non abbiamo provato a coinvolgere l'Unione Europea? Perché l'Unione Europea, voi sapete che io sono sempre abbastanza critica, ma nasceva come comunità economica del carbone e dell'acciaio, giusto? E se è vero come è vero che l'acciaio di qualità prodotto dagli operai dell'Ilva serve anche alle aziende automobilistiche tedesche e magari se l'Ilva chiude domani le aziende automobilistiche tedesche, quello stesso acciaio di qualità lo devono andare a prendere se lo trovano da qualche altra parte gli costa molto di più, magari poteva interessare coinvolgere l'Unione Europea anche Angela Merkel parlare del destino dell'Ilva. Perché una volta che l'Europa serve noi non la prendiamo in considerazione? Perché una volta che serve non ci facciamo dare una mano? Perché anche qui dimostra che in qualche maniera noi subiamo ma non riusciamo mai a utilizzare gli strumenti, compresa l'Unione Europea, quando possono essere utili per noi. Allora penso che una persona come Raffaele che anche qui ha fatto il relatore addirittura del Just Transition Fund, cioè del fondo per la transizione equa che secondo il quale all'Italia dovrebbero arrivare risorse significative, in partenza diciamo 700 milioni potrebbero arrivare a 2 miliardi adesso con il recovery fund e certo utilizzare dal mio punto di vista la gran parte di quelle risorse per la bonifica e la transizione dell'Ilva di Taranto può qui dimostrare che la produzione industriale non è incompatibile con la salute della gente, che si può fare, che si difende la salute e si continua a lavorare. Certo bisogna avere le idee chiare e quello che sta accadendo oggi a Taranto è figlio di una politica che non ha avuto le idee chiare su quale dovesse essere lo sviluppo industriale, su quali dovessero essere le priorità e anche su come si dovesse difendere la salute e l'ambiente perché le due cose sono perfettamente compatibili se si ha un po' di attenzione e un po' di concentrazione, però l'Ilva, Taranto, che per la vicenda dell'Ilva è considerata una città industriale, non è solo una città industriale e questa è l'altra grande questione che ci dobbiamo ricordare, questa è anche una città di turismo, è una città che ha un mare straordinario, che ha scorci bellissimi, con una provincia straordinaria nella quale ci sono prodotti che ci invidiano in tutto il mondo, perché signori ce lo vogliamo dire che i pumi delle ceramiche di grottaglie sono una delle cose più straordinarie che si possano immaginare nell'arredamento di una casa, io lo dico perché ce l'ho, dentro quindi sono proprio coerente anche in questo, lo vogliamo dire che questi stessi prodotti, se utilizzassimo adeguatamente gli strumenti che la globalizzazione ci mette a disposizione, che vuol dire sempre no, è chiaramente saper mandare, portare questo nostro identità, questo nostro sapere al di fuori dei nostri confini nazionali, può fare la differenza, certo bisogna avere, manduria pure, lo so, ma adesso non voglio fare che tutti gli altri si arrabbiano i comuni della provincia, ho citato un esempio, poi ne conosco tante, ma insomma per un fatto diciamo di velocità, e dicevo, il fatto di avere un'idea di sviluppo, io penso che progressivamente l'Italia debba andare verso il sostegno a tutto quello che a marchio, a tutto quello che, semplificando, i cinesi non ci possono copiare, perché c'è storia, perché si tramanda di generazione in generazione e perché ha senso se è fatto qui, perché l'altra storia che deve finire è questa storia sulla produzione italiana, se tu vuoi vendere un prodotto italiano, quel prodotto lo devi fare in Italia dalla A alla Z, invece noi stiamo svendendo decine di marchi di orrendi prodotti fatti all'estero con il nostro nome e la nostra bandiera, che poi vengono venduti come se fossero prodotti italiani e non c'è un governo che è in grado di difendere questo marchio, queste produzioni. Allora vedete, noi vorremmo fare tutto questo e molto di più, vorremmo aiutare le famiglie, i ragazzi, i giovani, la natalità, vorremmo che questa nazione e anche questa regione non si rassegnassero a vedere i dati sulla natalità, i dati sulle nascite diminuire ogni anno, quest'anno record minimo di nascita. L'Italia è una nazione che rischia di scomparire, è una nazione nella quale nel breve termine non reggono i nostri sistemi di protezione sociale, hai voglia di fare le riforme delle pensioni, se tu hai sempre la società che continua a invecchiare hai sempre più gente da mantenere e sempre meno gente che lavora per mantenerla, vuol dire che le pensioni non ci saranno più per nessuno tra qualche anno, l'unico antidoto sono i figli, i figli e nessuno se ne occupa e anche su questo se io vi elencassi le proposte che ha fatto Fratelli d'Italia in questi anni non basterebbero tre ore, siccome ci stiamo facendo tutti un po' tenerezza con questo sole in testa, cercherò di essere bre, però io non mi rassegno e non mi rassegno neanche all'idea della sinistra che chi se ne frega tanto i figli li fanno gli immigrati, io vorrei che i figli li facessero gli italiani, io vorrei che questa identità, questa società potessero perpetuarsi, perché sono fiera di quello che sono, lo sanno tutti, io sono Giorgia, sono madre cristiana italiana eccetera, io sono fiera di quello che sono e quindi vorrei che le donne non dovessero ancora scegliere tra poter essere madre e avere un posto di lavoro in una realtà nella quale purtroppo una famiglia monoreddito non se la può permettere più nessuno, vorrei una società nella quale i giovani non debbano rimandare la possibilità di sposarsi e di comprarsi una casa a quando gli è scattato lo scivolo dalla pensione perché fino a 50 anni è impossibile avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato e la banca non ti dà al muto, società normale, una società normale nella quale le persone possano avere sulla base di quello che valgono, di quello che dimostrano, allora anche la famiglia è una nostra grande priorità così come i più fragili, ho incontrato stamattina una signora a Bari con un ragazzo disabile e chiaramente era molto arrabbiata con la politica giustamente perché i più fragili in questa società sono stati totalmente abbandonati e dimenticati però c'è un partito che mentre il governo spendeva 80 miliardi di euro, famoso decreto cura Italia, decreto rilancio per dilapidarne buona parte in idiozie, modello il bonus monopattino o le consulenze ai ministeri, quando ci hanno detto potete chiederci una cosa solo perché loro sono così, volete trattare, magari avete qualcosa, qualche cosa che vi interessa da sistemare anche voi, qualche problemuccio da risolvere, abbiamo rispedito la proposta al mittente, abbiamo chiesto una cosa sola, che venisse istituito un fondo per sanare quella vergogna indecente di pensioni di invalidità ferme a 280 euro nello Stato che spende più di mille euro per mantenere un immigrato clandestino, c'è chi parla e chi lo fa. Allora vedete e vado verso la conclusione, io penso che si possa cambiare, chiaramente dipende dai cittadini, dipende da voi, io che credo nella democrazia a differenza dei nostri avversari so che si governa quando si vince e quando si perde si deve andare a casa se si ha un minimo di dignità. Vedo molto nervosismo nei nostri avversari, una campagna elettorale brutta, aggressiva, cinica, nella quale il governatore uscente Michele Emiliano dopo non aver fatto assolutamente nulla nella sanità per cinque anni, improvvisamente a tre settimane dal voto annuncia i concorsi nella sanità, nella quale una delle decine di agenzie messe in piedi in questi anni per sistemare e moltiplicare le poltrone, per sistemare tutti i parenti e tutti gli amici si mettono a fare le assunzioni in campagna elettorale per sostenere le liste di Michele Emiliano, una campagna elettorale nella quale ci si vanta di aver messo in piedi un baraccone di 15 liste con 500 candidati come se 500 persone avessero la vaga possibilità di essere elette, sapete a che servono tutti quei candidati? Ve lo dico io, servono a controllare il voto sui territori ed è esattamente quello che fa una politica clientelare che tiene serva la sua gente e la vergogna di un signore finto tecnico pagato a botte di 100.000 euro dai pugliesi per farsi la campagna elettorale e oggi mandano ai malati di tumore i santini di Lopalco con i convegni sul tumore e il covid, vergogna, vergogna, vergogna. È la dimostrazione del fatto che stanno messi parecchio male e quindi in tutto questo disastro la buona notizia signori è che siamo in partita e io vi chiedo di aiutarci 20 e 21 settembre perché vedete noi non abbiamo gli strumenti di cui dispongono i nostri avversari, né li utilizzeremmo come li utilizzano loro se li avessi, abbiamo addirittura sventato il messaggio alla nazione che Giuseppe Conte voleva mandare domenica a una settimana dal voto a domenica in, mandava il messaggio alla nazione, prima di lui solo Kim Jong-un in Corea del Nord. Noi, questi a forza di frequentare i cinesi, a forza di frequentare i cinesi la via della seta ci hanno portato il loro sistema di governo con la via della seta, noi non abbiamo i loro stessi strumenti però abbiamo la presunzione di avere dalla nostra parte le persone comuni, gli italiani per bene, i pugliesi per bene, le persone che vogliono cambiare, che credono ancora in questa nazione, che non si vergognano, che non hanno paura, che ci vogliono credere, che vogliono prendersi per mano e che sanno che non è vera questa idiozia, che i politici sono tutti uguali, che rubano tutti. Ragazzi i politici sono come la società che rappresenta, c'è ottima gente, c'è gente pessima, c'è chi lavora e chi non fa niente, c'è chi ci crede e chi non ci crede. Il punto è che quando arriva la democrazia voi potete scegliere chi mandare avanti e chi mandare a casa e non abbiate paura di credere in chi ci capisce qualcosa, perché quello che ci hanno insegnato i 5 Stelle è che uno non vale uno, se tu prendi un passante e lo metti a fare il ministro, poi ti ritrovi l'azzolina e non ti devi lamentare. Allora 20 e 21 settembre voi avete una grande occasione di liberare questa regione che merita molto di più e di darci una mano a provare a liberare anche una nazione che merita molto di più, perché la democrazia signori tornerà anche in Italia e quando tornerà esattamente come faremo in Puglia dal 22 noi anche all'Italia daremo un governo di persone coraggiose, libere e forti che per questo territorio e per questa nazione vogliono orgoglio e sviluppo. Grazie. Grazie Giorgia, grazie per la tua passione. Ora un omaggio Se senza sembrarvi troppo vi mettete qui facciamo un selfie